Il rischio veramente che chi ci rimette sono gli elementi più fragili, i bambini oppure a volte anche le donne, abbiamo poi imitato che purtroppo la cronaca ce lo dice in tante situazioni. E l'ultimo, cosa mi fa pensare per esempio quando qui vengono indicati tra i criteri per l'inserimento in asilo nido dei bambini, la condizione di povertà, quale unica privilegio? Allora, anche qui attenzione perché il nido non è una risposta assistenziale, il nido è una risposta educativa. Allora, se viene utilizzato come una risposta per la povertà, questo è un problema, io seguo i bambini adottivi, le famiglie adottive che non hanno un problema di povertà ma hanno un problema di genitorialità complessa, possono utilizzare l'asilo nido in maniera estremamente efficiente, efficace. Tant'è che al Comune di Roma la relazione in cui viene indicato che un bambino è in situazione di adozione ha diritto all'inserimento in asilo nido in maniera privilegiata, ma perché è proprio uno spazio di integrazione e di inserimento importantissimo per bambini che vengono da situazioni di comunità dove invece magari hanno sperimentato un difficile modo di stare con i pari e anche per i genitori l'opportunità di entrare in contatto con altri genitori. Lì la povertà non c'entra, c'entra appunto l'opportunità di offrire ad una genitorialità complessa uno spazio di crescita e di maturazione. Ecco, insomma, credo che se riusciamo a costruire intorno ai nostri bambini un intervento di tipo educativo e di tipo veramente che accoglie le richieste e quindi è flessibile, riusciamo a dare delle risposte. Certo bisogna avere i soldi, i soldi, le risorse, le risorse certe e non estemporanee ecco. E noi vi abbiamo portato tra l'altro perché pensavamo che potesse essere utile, sia proprio delle indicazioni precise articolo per articolo, diciamo che si presenta forse in maniera non del tutto formalizzata. Poi se poi le facciamo fotocopiare e le diamo a emendamenti, anche se la Presidente l'aveva già inviato. Comunque senz'altro questo raccoglie è stato visto dopo l'ultima modifica, quindi già indica i punti che noi avevamo ritenuto importanti, che sembrava a noi che mancassero e le indicazioni in rosso indicano se o meno sono stati adottati degli interventi laddove avevamo indicato. Vi abbiamo anche portato queste linee guida che è uno strumento che tra l'altro abbiamo costruito insieme alla magistratura, agli avvocati e alle case famiglia e ai magistrati, appunto sulle linee guida per l'allontanamento dei minori, nel senso che noi siamo additate come gli operatori che portano via i figli alle famiglie. Abbiamo pensato di rispondere a queste in maniera costruttiva, cioè allora costruiamo delle linee guida che sia il miglior modo possibile quando si è costretti a farlo perché venga fatto nel rispetto dei diritti del minore. Quindi questo è tra l'altro appunto è stato insieme con il nostro codice deontologico che riteniamo essere appunto tra l'altro non serve a proteggere noi ma serve a proteggere l'utente anche. Io avevo inizialmente fatto riferimento alla questione di lavorare molto soprattutto con gli adolescenti, anche con i bambini ma soprattutto con gli adolescenti. Su questo penso che c'è una vera emergenza e quindi intendevo anche dire cerchiamo di vederle le emergenze. Quando parlavo prima perché la vecchiaia l'abbiamo cominciata a considerare emergenza perché tutti noi abbiamo e non vediamo l'emergenza negli adolescenti. Per rispondere non è una risposta nel senso che è neanche un rimandare, però io penso che se non cominciamo a lavorare con gli adolescenti di oggi, che sono i giovani di domani, che fra qualche anno avranno forse dei progetti di vita, non ce la caviamo, dice vabbè ma intanto i genitori di ora, certo è utile, necessario, tutto, però non possiamo avere lo sguardo così corto. Noi dobbiamo lavorare con gli adolescenti di oggi, per questo ci sembrava grave, utilizzo questa parola, non aver rinforzato e obbligato a delle azioni che considerano rilevanti, indispensabile la responsabilizzazione dei ragazzi, su questioni di importanza che loro ritengono, perché i ragazzi devono essere motivati e ce ne sono tanti dei modi. Io sono già nonna e vedo quei bambini, insomma, è possibile, non è impossibile, è veramente possibile. E allora forse anche gli insegnanti potrebbero, cioè intorno a questi aspetti, io veramente farei, indicherei un livello essenziale, processuale, diciamo, che forse non costerebbe neanche tanto, ma, tipo, un progetto che obbliga la scuola, per esempio, a lavorare con gli enti pubblici, ma se ne possono fare tanti, io credo che negli anni 80-90 c'erano state delle indicazioni che potrebbero ancora essere buone, ma sicuramente oggi siamo, ci sono altri tempi, altri modi, lei pensi che sul territorio ci sono delle indicazioni, ce ne sono centinaia, per esempio, di consulte, consulte di partecipazioni, e calano dall'alto e poi tentano, provano. Ecco, questa questione della partecipazione degli adulti, ma proviamo con i bambini, forse se formiamo i bambini è un'ottica che deve germogliare, forse è un discorso che sembra un po' retorico, ma non credo che lo sia tanto. Per esempio, faccio un esempio, ecco un esempio, già nella scuola media, e media superiore ancora di più, ci sono delle esperienze in giro, io vengo da una cittadina di provincia che è Arezzo, ma forse qua e là ce ne sono tante, perché poi le cose buone sono sempre invisibili, non si sa perché, bisognerebbe provare a tirarle fuori. Ci sono dei progetti che impegnano i ragazzi all'accoglienza, all'accoglienza di chi? Di chi ne ha bisogno? Dei diversi cosiddetti, dei emigrati, ecco, c'è un giro, perché poi oggi io accolgo te e poi magari domani sei tu che... Ecco, intorno a questa questione dell'accoglienza nelle scuole, ai bisogni che c'è, si creano delle motivazioni, dei circuiti virtuosi, che si possono fare semplicemente, certo, dando agli insegnanti, e forse, adesso non so se è un discorso, questo della scuola, che è stato, come dire, già toccato forse in altre sedi, però forse se si danno dei motivi di valorizzazione anche dei ruoli, sicuramente anche le risorse non guastano, perché senza risorse probabilmente si fa poco, ma servono anche, serve crederci, serve, come dire, degli input positivi, perché si ricredino delle motivazioni valide, degli entusiasmi, dico anche. Cioè il problema grande, a mio avviso, è che appunto nel momento in cui non si riconoscono dei diritti, non si riconosce neanche la responsabilità poi di prendersene carico. Questi ragazzi sono deresponsabilizzati per lo più, sia nel bene che nel male. Io credo che, a proposito del numero dei crediti, che poi diventa anche quello quasi un... perde valore, non è l'esperienza in sé per quello che... cioè se io decido di fare un'opera di volontariato, io devo garantire che per quel periodo io sarò responsabile di quella cosa, nessuno gli chiede responsabilità. Credo che sia invece estremamente importante, proprio nel momento in cui io ti riconosco dei diritti, io da te mi aspetto una presa in carico e una risposta a quei diritti. E questo fa un po' la differenza. E' reale che quello che viene meno spesso sono, come dire, gli agenti educatori, che poi appunto è la famiglia, ma è la scuola, ma è anche il contesto, è anche la comunità. Il rischio grande, io ripeto, è che se sì, quello che io dicevo prima, cioè se la famiglia diventa un nucleo chiuso, poi diventa difficile a chi sta intorno alla famiglia anche entrare nel merito, responsabilmente della crescita di quel bambino. Cioè quel bambino è la nuova generazione di tutti. Io ricordo che mi arrabbia moltissimo veramente con il signore che vendeva il pane sotto casa, perché mio figlio un giorno prese una scatola di biscotti e se la portò via. E io mi arrabbiai, dice scusi ma non gli dice niente, beh signora è un bambino, è un bambino, non lo devo strillare io, lo deve strillare lei, perché ha fatto una cosa grave alla società, non deve aspettare che sia la mamma a strillarlo, come dire, cioè lui deve sentire che fa parte di una comunità e che in questa comunità ci sono delle regole che garantiscono a lui il diritto di essere accolto, di essere integrato, di essere anche riconosciuto, ma che lui a questa comunità deve delle cose. Questa cosa spesso i nostri giovani poco l'hanno imparata. Io penso che qual è lo strumento? E' al solito l'integrazione, cioè mettere insieme la scuola con i servizi locali, sicuramente con il terzo settore, sicuramente con le famiglie, sicuramente, cioè metterci insieme, ma sentirci tutti responsabili di un compito che è molto grande, che qui probabilmente siamo, come dire, no? Cioè massimo livello, perché appunto poi qua si fanno le leggi, noi cerchiamo di metterle in pratica, i nostri ragazzi sono in questo momento, come dire, quelli che li prendono, ma sono anche quelli che a loro volta ci devono imparare a chiedercele le cose che gli interessano. Ecco, penso vanno messi nelle condizioni anche in questo senso. Per questo che dicevo, come dire, sembra una sciocchezza quella cosa dell'asilo nido. E' importante quello, nel senso che se noi abbiamo culturalmente nella nostra testa che quel bambino, noi gli costruiamo l'asilo nido, ma perché è un'opportunità per lui di crescere, non è una risposta alla mamma che ha bisogno di lavorare fino alle 7 di sera, perché allora se, cioè, se la mamma viene e mi dice io devo lavorare fino alle 8 di sera, probabilmente io mi occupo di adozione, gli direi, signora, forse è bene che lei non adotti, perché, no? Cioè, io non posso creare una serie di strumenti perché lei non faccia la mamma, come dire, no? Ciononostante, non sto dicendo che non servano gli asili nido, perché la donna deve avere assolutamente l'opportunità di lavorare. Ma non esistono per quello, esistono perché quel bambino abbia l'opportunità di crescere in un ambiente sano e quelle mamma e quella famiglia possa avere l'esperienza di una comunità che funziona intorno a suo figlio e forse a volte anche, appunto, io mi occupo, ripeto, di persone anche con una certa fragilità, di imparare come si fa, perché nessuno lo sa di suo, insomma, no? Quindi è importante aprirla alla famiglia, non chiuderla. Una cosa per convalidare questo, perché non mi ero allargata. Io ho lavorato per molti anni nei servizi di salute mentale e ancora adesso sono dentro anche alle associazioni... Per esempio, la salute mentale. Sì, e allora le dico, intorno al problema dell'adolescenza ci sono cose terribili. Lei ne ha citate alcune, ma io le faccio un'altra... Le dico l'anoressia, ecco, già a 12-13 anni ci sono dei problemi enormi, non dico che sono... voglio dire che sia... Però il fatto che ne esistano in una certa percentuale è già allarmante. Quindi c'è un problema di modelli. Lei dice il piano è sufficiente. No, non è sufficiente, secondo me. Non è sufficiente perché probabilmente siamo insufficienti tutti. Ci vorrebbe anche veramente un coordinamento delle forze. Ecco, adesso noi abbiamo citato le questioni sanitarie, ma se non le coordiniamo, già appunto i servizi non arrivano, i gruppi infanzia non arrivano fino a coprire. Dopodiché il giovane dove va? I servizi di salute mentale. L'abbiamo approfondito ad Arezzo, proprio al centro Basaglia, qualche settimana fa. Cioè ci sono dei problemi proprio logistici che non si capisce perché non si debbano risolvere. Intendiamoci, perché sta nelle umane possibilità di risolverlo. E non si capisce perché non si riescano a risolvere problemi di integrare un po' tutto, certo, di coordinare, dalle politiche agli operatori. Ecco, però pensiamo che all'interno di queste smagliature passano problemi enormi, che non tutti sono citati qui, per questo è insufficiente, perché voglio dire certo, e poi non è che citandoli tutti si risolvano tutti, naturalmente. Però veramente, se non creiamo anche dei punti chiave, cioè dove lì bisogna che l'osserviamo, tra la scuola, la sanità, ci devono essere degli snodi, tali per cui non ci può sfuggire. Poi è vero che non siamo salvifici, però assolutamente degli snodi li dobbiamo ritenere indispensabili. Qualcuno di questi, e non pochi, stanno lì, altri stanno nella primissima infanzia. Nella primissima infanzia. Che cosa impedisce alcuni servizi sanitari di vedere già dei grossi problemi? Parliamo di prevenzione. E loro si costruiscono dei programmi incredibili sulla prevenzione. Ma chi impedisce che già alcune cose vengano viste e riportate? Ecco perché l'importanza di parlare della responsabilità dei servizi pubblici. perché hanno una responsabilità in più. Poi parliamo pure del terzo settore, parliamo del com'è che vengono chiamati i soggetti intermedi. Ecco, ce n'è un po' di tutti. Però facciamo le differenze. Facciamo le differenze. Perché esistono già oggi delle possibilità in più che possono essere fruttate. Per questo dico, proprio attenzionare quegli snodi che ci potrebbero già permettere di farla la prevenzione. Di farla. Certo, serve veramente anche un po' di entusiasmo negli operatori. Serve che non abbiamo sempre il fiato al collo. Certo. Grazie. 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 Grazie a tutti.